Questa mattina ad Agropoli nel Cilento si è verificato un dramma in cui Vincenzo Carnicelli, 63 anni, pizzaiola, ha ucciso sua moglie Annalisa Rizzo, 43 anni, impiegata di banca, con coltellate prima di togliersi la vita. I corpi sono stati trovati in via Gaetano, Donizetti, la madre della donna è stata la prima a chiamare i soccorsi, preoccupata perché la figlia non rispondeva al telefono. La dinamica precisa deve essere ancora stabilita, ma si ipotizza che una discussione violenta tra i coniugi abbia portato a un tragico omicidio-suicidio. I carabinieri sono intervenuti avviando indagini per comprendere le cause e le circostanze di questa tragedia. La coppia lascia una figlia di 13 anni. Grazie per la visione! Grazie a tutti.